Questa è la giacca simbolo della collezione Cruis 2023, presentata a Siviglia. La giacca è una giacca boxy tagliata in un tessuto tramato in seta e lana. Il pote è legato da 5 boutoni di passamenterie. Quando ci sono le dessin, è ben specifiché come si devono essere fatti. Le passamenterie, per esempio, sul basso delle manche, sul bordello del col. È ricamata interamente a mano dagli ateliers di Chanaglia. I motivi sono delle grafiche floreali che si legano molto alla Maison Dior, ma che comunque nascono dalla tradizione spagnola. È un po' largo a la poitrine e fitté a la taille, come le vettement di Torriador, perché ha dei pantaloni di talle alti e il bollero è fermato proprio al livello della taille. La ragazza celebra Carmela Maia, una ballerina di flamenco importantissima perché negli anni 40 decide di ballare con degli abiti tipicamente maschili. Il y a due sorti d'histoires nella collezione. La veste brodata e la veste unita, tutto in passamenterie. La giacca nera è una giacca con delle proporzioni diverse, con dei codici che vengono dalla veste bar. Infatti è una giacca più lunga, è una giacca silveté, decorata con degli alamari fatti in fibra tecnica. Ma la ragazza è l'abbia una nuvote. È una veste new bar, diciamo, ma con dei brambos.